Diventa un interista premium! Diventa un interista premium! Sul canale YouTube di Radio Nerazzurra puoi diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi! Oh wow! Sostenendoci con 1,99€ al mese avrai accesso a 120 ore di diretta video! E le novità non sono finite! Con 4,99€ al mese premiamo la tua fedeltà! Per ogni mese sottoscritto riceverai tanti regali, magliette, felpe e un podcast personalizzato! Abbonati sul canale YouTube di Radio Nerazzurra e diventa un interista premium! Radio Nerazzurra. Amala. Seguila. Sentila.